Grazie Presidente. Per illustrare questo ordine del giorno vorrei partire andando un po' indietro. Nella scorsa legislatura una politica dell'immigrazione indiscriminata portata avanti dall'allora governo Renzi prima, Gentiloni poi, indignò profondamente il popolo italiano. Ma soprattutto lo indignò il fatto che, tipico di una certa sinistra perbenista, dietro il paravendo dell'umanità e dell'accoglienza si nascondesse esclusivamente un business. Il business dell'accoglienza. E poco importa se questo comportasse per gli italiani un carissimo prezzo da pagare in termini di sicurezza sociale. Vale a dire, appunto, quello della sicurezza. O meglio, dell'insicurezza. Nel 2018, però, per fortuna, si va a votare e a prevalere sono quelle forze politiche che avevano fortemente avversato questa politica dell'immigrazione, indiscriminata. E a soccombere, invece, le forze politiche che l'avevano praticata in una maniera ostinata. E allora nascono, in risposta a questo chiaro desiderio del popolo italiano, i decreti sicurezza. Il risposta, appunto, come dicevo, ha un input chiaro del popolo italiano. Certo, decreti non esaustivi, per quanto noi, appunto, credevamo. Ma sicuramente un primo passo nella direzione della sicurezza. Ma, incredibilmente, come ormai troppo spesso accade in Italia, torna a governare chi il popolo aveva mandato a casa. Il Partito Democratico. E non contento di essere inguillino abusivo a Palazzo Chigi, il presente Conde rinnega se stesso, andando a modificare e a contraddire i suoi decreti sicurezza. E questo poco varrebbe se non comportasse che questo rinnega, appunto, non solo se stesso, ma la chiara indicazione che il popolo italiano aveva dato a marzo 2018, andando ad abolire le restrizioni che erano state introdotte alla politica dell'accoglienza indiscriminata sotto il paravendo dell'accoglienza umanitaria. Come fa a definirsi questa democrazia? Come fate voi a definirvi un partito democratico se ignorate e anzi avversate le indicazioni che gli elettori italiani hanno chiaramente espresso? E allora, Presidente, io sono molto preoccupato, sono davvero allibito, sono smarrito nel leggere un decreto che annichilisce la sicurezza del Paese e condanne i nostri figli a un futuro senza futuro, che apre le porte all'immigrazione indiscriminata solo per fare emigrare i nostri figli domani. E allora quest'ordine del giorno, in questa direzione, chiede che non si possano rilasciare nuovi permessi di soggiorno, non si possa farlo almeno fino al termine del periodo emergenziale. Questa non è sicurezza, questa è insicurezza. Questo non è vivere in tranquillità, questo è vivere nel terrore. Se invece siete convinti del contrario, allora dovete trovare il coraggio di raccontare ai morti di Nizza che il loro carnefice ha incrociato il loro destino perché il Ministro Lamorgese ha ritenuto e ritiene ancora che queste persone non siano assolutamente pericolose. Allo stesso modo, ed è un altro impegno che chiede questo ordine del giorno, è oggi più che mai fondamentale sospendere le misure di accoglienza per i nuovi migranti che non siano ancora oggi presenti sul suolo nazionale. Non si può prescindere da questo provvedimento. In un momento storico dei più drammatici mai vissuti non si può chiedere alle forze di polizia o a tutti i comparti dello Stato di adoperarsi per il rispetto di questa norma quando ci sono molte cose più importanti a cui devono pensare. Ci avete chiesto sacrifici e vi abbiamo dato responsabilità oltre ogni misura. Non abusate della nostra gente. Responsabili siamo stati e lo saremo ancora, ma voi che amministrate il potere dovete avere la forza del buon padre e di famiglia. Dovete proteggerci. Dovete proteggere il Paese. E lo potete fare con l'ultimo impegno che io chiedo in questo ordine del giorno, prevedendo che tutti i centri di accoglienza siano tenuti a relazionare quotidianamente il prefetto relativamente ad eventuali trasferimenti, revoche di misure di accoglienza, nonché allondanamenti non giustificati. Se anche qui fuggite alle vostre responsabilità vuol dire che non vi interessano gli italiani. Vi interessa solamente gestire di nuovo un business. Inanditesi, dicevo e vado a chiudere, Presidente, che sono preoccupato, ma determinato a fermarvi, anzi siamo determinati a fermarvi. Non passerà lo straniero. E lo straniero non sono certo i migranti. Grazie. Ha chiesto interviene il deputato Diego Binelli. Prego.